Un saluto Dalla redazione sportiva Il calcio in primo piano Con il Pescara Che oggi ha partecipato Ai funerali Di Francesco Mancini Infatti si sono svolti In mattinata nella cattedrale Di Manfredonia I funerali dell'ex preparatore Dei portieri scomparso nel pomeriggio Di venerdì a causa di un infarto A soli 43 anni Per l'ultimo saluto All'ex portiere di Foggia, Napoli E Bari era come detto presente Il Pescara al gran completo Ancora sotto shock per la perdita Di un compagno che nel giro Di poco tempo si è fatto apprezzare Da tutti per le grandi qualità umane Oltre che tecniche Per l'ultimo saluto a Mancini Oltre ai tanti parenti ed amici Anche molti esponenti del mondo Del calcio con dirigenti Delle vere squadre in cui ha militato Ed ex compagni che lo hanno Ricordato con vari messaggi Alcuni lasciati sui principali social network Emozionante in particolare Il gesto di De Sanctis e Buffon I portieri di Napoli e Juventus Che ieri sera prima della partita Per l'appunto tra Juve e Napoli Hanno fatto il riscaldamento pre-partita Con una maglietta bianca E la scritta Ciao Mancio La squadra nel frattempo In vista della trasferta di Varese Dove mancherà Zanon squalificato Inizierà nel pomeriggio La serie di allenamenti Per la gara di giovedì sera Rientreranno dopo il turno di stop Inflitto dal giudice sportivo I centrocampisti Gessa e Cascione Per quanto riguarda sempre il campionato di Serie B Oggi si concluderà il quadro della 33esima giornata Al Granillo la Regina ed il Brescia Si giocheranno la possibilità di scalare posizioni Per quanto riguarda il discorso legato ai playoff Il Varese invece prossimo avversario dei Biancazzurri Dopo la sconfitta subita a Castellammare Contro la Juve Stabia In classifica è a quota 52 In pratica i biancorossi di Maran Sono l'ultima squadra Che è racchiusa nel lotto delle squadre Che poi si giocheranno i playoff Per la promozione nel massimo campionato di Serie A E oggi sempre per quanto riguarda il mondo del calcio Però quello che non piace Quello legato al calcio scommesse Ci sono state importante novità Infatti sono scattati diversi arresti Nel servizio Tutto viene spiegato La tanto attesa svolta sulla vicenda del calcio scommesse È arrivata Su ordine della procura di Bari Nella notte tra domenica e lunedì Ha preso il via all'operazione che ha portato all'arresto di tre persone Tra i quali spicca il nome del difensore dell'Atalanta Andrea Masiello Oltre ad un'indagine serrata Su un numero ridotto di una ventina di indagati Comprensivi i nomi di nove ex calciatori biancorossi Coinvolti nella presunta combin di nove partite Dello scorso campionato di Serie A Masiello sarebbe stato arrestato a Bergamo E portato nella notte a Bari Con lui in carcere sono finiti due suoi amici e scommettitori Giovanni Carella e Fabio Giacobbe Ritenuti complici dell'aggiustamento di alcune partite Disputate dal Bari nello scorso campionato Il difensore infatti avrebbe intascato 300.000 euro Per il derby di ritorno del campionato 2010-2011 Bari-Lecce Che permise ai giallorossi di conquistare la permanenza nel massimo campionato Proprio sul campo del Bari già retrocesso con un turno di anticipo In quella partita una delle nove della parte finale dello scorso torneo Finita sotto la lente della procura pugliese Masiello realizzò un clamoroso autogol I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal giudice Per le indagini preliminari del Tribunale di Bari Su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica Del capoluogo pugliese Antonio Laudati e Ciro Angelilis Il reato contestato e associazione per delinquere Finalizzata la frode in competizioni sportive Tra gli ex calciatori bianco-rossi indagati a Bari Oltre ad Andrea Masiello ci sono Daniele Portanova Difensore attualmente in forza al Bologna Alessandro Parisi, difensore del Torino Simone Bentivoglio, Marco Rossi, Abdelkader Ghezzal Marco Esposito, Antonio Bellavista e Nicola Belmonte Nel registro degli indagati ci sono anche i nomi di vari ristoratori Scommetitori ed amici di giocatori Intanto il Bari fa sentire la propria voce in questa triste vicenda Dichierandosi parte l'ESA Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore Sicuramente continua a essere scritta purtroppo Questa pagina molto buia del nostro calcio Per fortuna però il calcio pulito, quello sano e un altro Sicuramente quello dei ragazzi Oggi pomeriggio infatti scatta l'avventura Nell'edizione 2012 del Torneo delle Regioni Per quanto riguarda l'Abruzzo che si disputa in Basilicata Per la rappresentativa Juniors abruzzese Sicuramente ci sarà l'occasione per mettersi in mostra I ragazzi del tecnico Luigi Iervese se la vedranno con i parità dell'Umbria La gara è anche una sorta di rivincita della finale persa ad ottobre Che metteva in palio l'accesso alle fasi finali della UEFA Regions Cup L'Abruzzo oltre l'Umbria sfiderà nel proprio girone la Calabria ed il Veneto Noi abbiamo ascoltato il tecnico proprio della rappresentativa Juniors abruzzese Luigi Iervese Eh sì, la prima partita è sempre un po' di emozione c'è sempre Però vedo i ragazzi sereni, tranquilli e vogliosi di far bene Speriamo bene Sicuramente è un'esperienza bellissima Questo è il terzo anno che ho l'opportuna di vivere questa emozione Devo dire che è molto bello sia per me ma soprattutto per i ragazzi E niente, noi non è che abbiamo ambizioni Noi cerchiamo sempre di prepararci bene Di affrontare le partite con una certa determinazione E poi naturalmente vai in campo per provare a vincere Noi ci proveremo, cercheremo di fare il massimo E poi vediamo che per sponso del campo cosa dici Ma sì Luca, tanto se vuoi andare avanti devi vincere Quindi incontrare quelle forze subito può essere un problema all'inizio Però ti ripeto, devi vincere Quindi non devi guardare con chi giochi Devi cercare di fare il nostro gioco Con la speranza di ottenere il risultato matto In bocca al lupo dunque alla nostra rappresentativa Per quanto riguarda il torneo delle regioni che si disputa in Basilicata La speranza è che la squadra di Iervese possa davvero arrivare fino in fondo E portare in alto il nome della nostra regione E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione della Notizia Sport Come sempre tutti i servizi, questa edizione del nostro TG Sportivo Potrete rivedervi andando sul nostro sito www.latvnews.it A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione Appuntamento ai prossimi spazi con l'informazione sportiva Sempre firmata dalla TV dell'Adriatico Grazie per essere stati in nostra compagnia Arrivederci Grazie a tutti